Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Oggi come vedete sono su una postazione diversa Perché voglio registrare lo speciale 500 iscritti So che sono pochi, non sono così tanti Ma per me sono tantissimi Cioè già quando ero arrivata a 100 ero tipo Cioè grazie, grazie mille a qualsiasi persona Abbia schiacciato iscriviti al mio canale Perché grazie mille, non sapete quanto sono felice E penso si veda anche Mi sono messa appunto la corona per festeggiare No vabbè dai, a parte gli scherzi Grazie mille, grazie 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 E appunto perché è uno speciale 500 iscritti Ho pensato di raccontarvi un po' più di me Perché alla fine voi si sapete che sono una tv series film libri addicted Però non sapete magari cose un po' più personali Quindi ho deciso di fare il video che si chiama 10 cose che non sapete di me Adesso ve le elenco E così scoprite un po' il mio mondo Numero 1 Ho vinto due coppe d'argento quando ero in prima media Alle gare provinciali di ginnastica artistica Numero 2 Non sopporto la gente che arriva sempre in ritardo O si fa aspettare Number 3 Adoro camminare a piedi nudi per casa Quattro Ho iniziato il libro e non l'ho mai finito Number 5 Adoro le lunghe telefonate Number 6 Amo l'odore della benzina È una cosa fantastica So che è tossico ma a me piace un sacco Seven Ho una voglia piccola così a forma di fragola sulla gamba destra Eight Ho una paura abbastanza assurda Che è la fobia Barra paura Dei clown Sì lo so è una cosa un po' ridicola Ma purtroppo sono fatta così Numero 9 Odio vestirmi femminile Cioè non frattendetemi Nel senso che non mi piace usare le gonne Le odio profondamente Indosso solo jeans praticamente E leggings ecco Preferisco già i vestiti Però se devo indossare le gonne tipo coi top Quelle cose là Odio profondo Sono molto più jeans e t-shirt molto tranquillamente Con le converse O comunque le scarpe da tennis Numero 10 Ho sempre desiderato avere un fratello più piccolo Siccome sono figlia unica Ho sempre voluto avere fratelli e sorelle Purtroppo non è possibile Però ho sempre desiderato averne uno Il video è finito Spero vi sia piaciuto Se vi è piaciuto lasciate un bel po' all'incenso Spero di avervi detto appunto queste cose E avervi fatto conoscere un po' di più di me stessa E grazie ancora tantissimo A tutti quelli che si sono iscritti Quindi ai miei 501 iscritti Grazie, grazie, grazie E noi ci vediamo al prossimo video Ciao